Sabato 26 ottobre verrà inaugurata la settima edizione di Kaiserfest, la tradizionale manifestazione in programma fino al 3 novembre in piazza Ponte Rosso e zone limitrofe. Promossa dal Tamarea Eventi in coorganizzazione con il Comune di Trieste e in collaborazione con l'associazione Trieste 800 APS e agenzia viaggi Mittelnet, sarà ancora una volta all'insegna di visite guidate, sfilate e balli in abiti d'epoca, esibizioni bandistiche e cucina tradizionale. Kaiserfest torna nel 2024 dopo il successo delle sei precedenti edizioni, la prima delle quali svoltasi nel 2016 coincideva con i cent'anni dalla morte di Francesco Giuseppe. È una manifestazione veramente molto completa che al di là della presenza della mostra mercato in piazza Ponte Rosso spazia in tantissimi luoghi della città, quindi con approfondimenti culturali di un certo spessore che spaziano appunto dai cimiteri monumentali fino al palazzo delle poste e anche ad altre chicche che il programma prevede, quindi è una manifestazione che tradizionalmente anima un weekend che è anche molto attrattivo dal punto di vista delle presenze turistiche, quindi che parla ai triestini ma che vuole presentare la città in tanti suoi aspetti interessanti anche a chi arriva da fuori Trieste.